Voci.fm a Sanremo con Voxil Voce Gola Siamo a Sanremo con LDA, ciao, come stai? Emozionatissimo immagino? Molto emozionato E ci vuole, ci vuole Allora tu presenti, prima volta ovviamente sul palco dell'Arison, anche se non sei, insomma hai già una carriera e sei già ben conosciuto Presenti un brano che si chiama Se Poi Domani, è un brano romantico che parla di dubbi, di fiducia, raccontaci in breve Ma Se Poi Domani è una canzone molto vera, è una canzone che ho scritto in pochissimo tempo Che è evidente quelle canzoni che ti senti, che non ce la fai più a tenerti dentro, no? E senti veramente il bisogno di scriverle E' stato proprio così, cioè mi sono messo mezz'ora pure cantata, poi l'ho sentito, ho detto questo è il brano di Sanremo Non c'è, per forza Quando hai la necessità, no? Di dire qualcosa Sì Tu ti fidi? Di te stesso, in amore? Come sei? Sì, assolutamente sì, mi fido, sono molto leale, molto leale E quindi pretendi lealtà immagino, perché così si fa Allora, poi ci sarà la serata delle cover, ovviamente, tu hai scelto di esibirti con Alex Britti E in un pezzo, vabbè, oggi sono io che ha fatto un po' anche la storia del festival, come mai questa scelta? Allora, ci sono tre motivi Il primo, che è un po' più da napoletano, magari ha portato bene Noi mettiamolo in mezzo E già perché ha vinto, giustamente Eh, certo Il secondo, quello un po' più serio, perché, vabbè, è un capolavoro Cioè, è un pezzo troppo bello E quindi, cioè, per me è un onore portare un pezzo così bello sul palco dell'Ariston E il terzo è perché Alex è proprio fresco nei modi di fare Come lo vedi sul palco È proprio giovane Cioè, sembriamo due fratelli Lui è un po' più grande Però sempre due fratelli Gliel'hai detto, sì, è stato contento Sì, sì, gliel'ho detto Un po' meno quando ho detto due fratelli, però tu un po' più grande Benissimo Senti, di venerdì 17 di solito non si dovrebbe fare niente Invece è un ottimo giorno, no? Per far uscire un album Esatto Che si intitola Quello che fa bene Ma tu, quando stavi ad Amici, cantavi Quello che fa male Quello che fa male Che è successo? Che sono maturato Bene E ho capito che nella vita si può amare anche quello che fa bene E magari tante volte anche meglio Nonostante una piccola parte di me ama sempre quello che fa male Però, maturando, ho capito che quello che fa bene alla fine ci fa stare bene E anche l'amore ci fa stare bene Assolutamente, sì È proprio l'unica cosa che ci rende vivi, secondo me Ma l'amore per qualsiasi cosa e non per forza per una persona L'amore visto a 360 gradi Poi lo diceva pure Alessandro Siani C'era proprio ragione Quindi diciamo che il firruge anche di questo album Insomma sono i sentimenti, l'amore cantato in mille modi Cantato in mille modi, quindi parlo di amor proprio Amore verso la città Amore verso una persona, verso un amico, un fratello Amore a 360 gradi E poi c'è il live, no? Poi ci sono i live Non toglieteci i live, giustamente dopo tutto questo tempo Mai, mai Quanto è importante per te cantare su un palco, esibirti su un palco? È fondamentale Per noi artisti live è quel momento dove togliamo il telefono e ci godiamo solo musica Senza pensare a tutto il resto Cioè il palco paradossalmente è il momento più di relax di un artista Che rapporto hai con la tua voce? Ti piace, la curi? Mi piace, sì A me piace la mia voce, non è male La curo Nel senso magari alleni le corde vocali prima di cantare Oppure visto che sei giovane vai in attività A volte sì, a volte no A volte no, magari no quando mi sento già bene Quindi non c'è bisogno E magari sì quando devo fare qualcosa la mattina presto E quindi devo per forza riscaldarmi Certo Grazie mille in bocca al lupo Grazie a te Un saluto e un abbraccio a tutti gli amici di Voci.fm Dai le dia Voci.fm A Sanremo Convoxil Voce Gola